Salve a tutti ragazzi qui Shingezo OG e vi porto la mia reazione al trailer di Wild Hearts. Che cos'è Wild Hearts? Wild Hearts è un gioco di caccia, quindi un gioco in stile Monster Hunter, gioco sul cui il mio canale è basato e quindi mi sembra imperativo portarlo qui sul canale. Ultima premessa prima di mettere il video in play. Questa reazione non è la mia prima reazione, quindi non aspettate di reazione tipo wow, perché il video l'ho già visto. Detto ciò partiamo col video. Allora cominciamo con la grafica e non sembra niente male, infatti aspettandosi un gioco next gen direi che in quanta grafica ci siamo. I mostri sono enormi ragazzi, veramente grossi, sono più grossi di quello che troviamo solitamente in Monster Hunter secondo me, almeno per quello è riguardo ai mostri base, poi non sappiamo in termini di draghi anziani, immagino avremmo anche qualcosa di molto più grosso. Qui vediamo che sta utilizzando l'ombrello, ci sono otto armi nella versione finale, per adesso ne conosciamo tre di queste che sono l'ombrello e la katana e l'arco. come vedete i mostri sono fusi con la natura, questa è parte della lore, infatti questi mostri vengono riguardati come calamità naturali e noi dobbiamo essere il pro d'eroe che li ferma e salva l'umanità, per farla breve. Ah, qui vediamo gli aggeggi da costruzione, scusate non mi ricordo il nome adesso, però nel gioco una componente interessante e nuova che hanno aggiunto è l'abilità di costruire queste torrette barra meccanismi che aiuteranno anche nell'attraversamento nella mappa e sia che nel combattimento. Qui vediamo un po' di co-op, il gioco da quello e mi pare di aver capito ha un co-op fino a tre giocatori, lo so che non è come quattro che è il monster hunter, quindi se avete un gruppo di quattro amici purtroppo qualcuno rimarrà chiuso fuori oppure farete a turni, non so questo sta a voi. Ed ecco che alla fine vediamo il mostro enorme, probabilmente una sorta di flagship, come si dice in monster hunter. Va bene ragazzi questa è stata la mia reazione al trailer, aspettatevi di vedere più contenuti riguardanti questo gioco sul canale e vi ringrazio di aver guardato. Se volete pensate al mio merito, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e non dimenticatevi dalla campana.